Mi chiamo Marta Petel, ho 31 anni, sono musicista, cantautrice e artista di strada. Sono nata e cresciuta a Pozna, in Polonia. All'età di 7 anni ho cominciato a suonare violino, poi ho fatto l'Accademia di Musica con la Viola. Ho lavorato anche in orchestra, però non è stata mai la mia vera passione. Due anni fa mi sono trasferita in Italia. Prima ho vissuto un po' a Roma, dove ho scoperto suonare per strada. Poi stavo girando un po' dappertutto e alla fine mi sono fermata di più a Modena. Grazie anche ai miei amici e ne sono molto felice. A Modena mi trovo benissimo perché essendo artista di strada posso esprimermi nel modo molto naturale, bello, ampio. e allo stesso tempo ho un contatto umano più vicino. La Modena non è una città caotica, frenetica come le città più grandi. Modena è un posto perfetto per lavorare per un artista di strada perché la gente è molto aperta, è anche sensibile per l'arte, per la musica. Sono curiosi, allora allo stesso tempo io guadagno bene perché c'è la risposta anche da parte della gente. A Modena mi piacciono i colori perché è la città molto bella. Sono edifici molto carini da vedere per un straniero, per questa straniera. Una, diciamo, tra virgolette tipica città italiana. Questa sensazione è molto forte in questa città secondo me. Grazie anche a questa mia attività professionale ho incontrato altri musicisti, ho incontrato un ragazzo che è venuto da me e mi ha chiesto di suonare insieme. Adesso stiamo suonando praticamente ogni tanto nei locali. E poi in generale c'è tanta gente che ho incontrato che mi racconta delle storie, che ci scherziamo, ogni tanto beviamo un caffè. Sì, mi sento molto in famiglia.